Adesso si buona benesperare in un porto fruibile e ad un sito da rivalutare a livello paesaggistico, considerato che ancora oggi è meta di book fotografici matrimoniali e di passeggiate romantiche. Senza ombra di dubbio, questo è il risultato di un lavoro attento e costante, svolto dal gruppo di lavoro che con grande soddisfazione ho seguito fin dall'inizio. Lo dice il presidente del Consiglio Comunale, Alessandra, dopo la firma posta ieri sui lavori al porto rifugio di Gela. Che finalmente dopo diversi anni di questo porto con diverse problematiche sembra riacquistare quella che è la sua vera veste, quindi non solo per i pescatori, per i diportisti e per tutti gli operatori che lavorano all'interno del porto, ma anche come è bene un collettivo della città, perché non dimentichiamoci che ancora oggi il porto è molto apprezzato dai cittadini gelesi che vanno a fare le passeggiate la sera, soprattutto in estate, quindi insomma sicuramente è un obiettivo importante che è stato raggiunto da parte del Consiglio Comunale, e dico il Consiglio Comunale perché tutto nasce con il gruppo di lavoro che il Consiglio Comunale ha approvato grazie alla mozione presentata dal capogruppo del gruppo consigliere del PD, che ha permesso agli operatori del settore di collaborare insieme agli amministratori, dunque insieme al Consigliere Cirignotta, nello specifico Farruggia e Scerra, dando il loro contributo affinché anche con la Regione si possa arrivare a questo momento conclusivo, quindi siamo pienamente soddisfatti e speriamo adesso, aspettiamo il prossimo anno per l'opera completa. Il capogruppo consigliere del PD Enzo Cirignotta fa autore della creazione del gruppo di lavoro che ha seguito l'iter procedurale. C'era un'attesa in città per questa firma, numerosissime telefonate abbiamo ricevuto, e dopo tanti anni finalmente un atto concreto, ed è uno degli esempi in cui la politica riesce a recepire le esigenze del territorio e della città. Un esempio questo gruppo di lavoro che va replicato per altre tematiche, perché ha portato veramente dei benefici al nostro territorio. Grazie a tutti.